Ben ritrovati a Rugby Magazine, ben ritrovato Francesco Cirina, Comitato Rugby Influenza Giulia e oggi parleremo di TAC perché siamo arrivati già alla seconda tappa dell'Alpe Adria TAC, il campionato regionale che esprimerà la squadra che parteciperà alle fasi finali. Ben ritrovato Francesco, come vai innanzitutto? Va molto bene, va molto bene dal punto di vista del TAC, sono molto contento che quest'anno siamo riusciti a riprendere l'attività che avevamo svolto due anni fa e come hai detto si è appena conclusa la seconda tappa, un'altra seconda tappa combattutissima sul terreno dei cinghiali di mossa e vedo entusiasmo Giancarlo, quindi sono molto contento per le tre squadre che partecipano, anche il pubblico ha riscoperto una variante per tutti che poco conosceva, per cui mi aspetto che sulla terza tappa anche la presenza sugli spalti di Bagnaria sia più alta. Innanzitutto che cos'è questo Rugby TAC per coloro che non lo sanno? Cosa vuol dire variante? Ovvero chiunque può partecipare, ci può giocare? Sì, si può giocare chiunque e fa parte del cosiddetto Rugby A5 che comprende il più ben famoso Beach Rugby e Snow Rugby e c'è anche il Rugby TAC e anche il TAC. Il Rugby TAC perché è per tutti? Perché non implica l'attività di placaggio ma semplicemente come lo dice la parola inglese il tocco. Si gioca appunto in 5 su un terreno adeguato al numero di giocatori e le squadre sono belle perché intanto sono miste, quindi maschi e femmine e dai 12 anni compiuti fino ai 42. Quindi tutti gli agonisti possono partecipare assieme. Allora, una variante del Rugby, ci può giocare chiunque, organizzazione e comitato Rugby Florenza Giulia. Come nasce quest'idea di aderire a questo campionato nazionale? L'idea è un'attività che appunto una branca della federazione che la promozione e sviluppo o promozione e partecipazione sta sviluppando, ha messo insieme questo circuito nazionale di Reglia V, partendo appunto da quello che erano i vecchi tornei che si organizzavano in passato. Finalmente due anni fa si è riusciti a trovare una formula che prevede delle attività regionali con poi una finale nazionale, per cui siamo riusciti a coinvolgere un po' tutta l'Italia in questa attività. Nel nostro piccolo, con rispolverando, tu mi insegni la Coppa Alpeadria e facendo diventare un trofeo touch, stiamo dando il nostro contributo come regione, nel senso che chi vincerà la Coppa Alpeadria, quindi la risultante delle tre tappe vincente come punti di classifica, accederà alla finale nazionale che si dovrebbe tenere intorno alla fine di maggio, i primi di giugno, probabilmente nelle Marche. Come referente di promozione e partecipazione della regione sono molto contento perché è un'attività che sta dando dei risultati, vedo che la gente si diverte e questa era la cosa più importante, il motto di promozione e partecipazione è Rugby per tutti, per cui sì, in questo caso possiamo proprio confermarlo. Rugby per tutti, tu eri presente alla tappa di Gorizia e hai intervistato un ritorno tra le file del Gorizia, ovvero una presenza femminile, l'intervista a Anna Villanova. E' sicuramente una bellissima occasione per confrontarsi con stili diversi, età diverse, quindi anche velocità, una sfila fisica ma anche di testa per saper tenere le gambe diverse, per gestirsi anche con persone con cui giochiamo poco e c'è sempre una bellissima atmosfera in questi tornei secondo me. E questo è il commento di Anna, per quanto sia al tocco, sempre che ci sia una bella battaglia in campo, squadre competitive, una classifica che vede vincente alla tappa gli Elefanti 1, ma nella classifica parziale sono gli arieti con 38 punti che stanno conducendo la classifica. Innanzitutto, chi sono questi gli Elefanti 1? Per caso riguarda una certa squadra di Bagnari Arce? Sì, sì, gli Elefanti, gli Elefanti toccati nella realtà, è proprio la squadra della Juvenilia Bagnari Arce, in collaborazione con il Vengiulia Rugby Trieste, anche nel tocco stiamo lavorando assieme, e abbiamo uno dei nostri Elefanti che è in forza al Bologna 1928, che quando è a casa si rende disponibile per questa attività. Sì, sono proprio loro che comunque ci tengono in un certo senso a fare una bella figura in considerazione che sono andati loro insieme al Pordenone due anni fa alla finale nazionale, per cui è vero, è molto sentita, è molto agguerrita, diciamo, le tappe lo sono, ed è molto piacevole perché comunque è uno spirito positivo, agonistico positivo, è una classifica cortissima, perché se non ricordo male sono gli Arieti a 38, gli Elefanti toccati a 35, gli Elefanti toccati a 33. Quindi diciamo che diventa cruciale la tappa del 4 di maggio in quel di Bagnari, ecco. Bene, allora, sempre grazie al tuo contributo, siamo andati a conoscere altri giocatori rispetto alla puntata precedente e alla tappa precedente di quando era iniziato l'Alpe Adria Touch, e le interviste sono a Gabriele De Carli, Andrea Gratton e Mattia Grumina. Oggi per voi, prima esperienza di quest'anno di Rugby Touch, seconda tappa della Coppa Alpe Adria, voi del Vengiulia nelle file della Juvenilia, come ormai e con suetudine anche nel Rugby A15. Voste le prime impressioni dopo le prime due partite? No, sicuramente è un gioco molto più veloce del Rugby A15, sicuramente, molto più fiato, più intensità, più divertimento anche. Come ha detto lui, molto più divertimento e anche molto più gioco, gioco molto più veloce e infatti anche più divertente. Sì, tanta velocità, pochi tempi morti, quindi tanto divertimento, sì, molto 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 più veloce. Bene, quindi insomma posso trarre la conclusione che vi state divertendo. Certo, certo. Ottimo, perfetto. Allora continuate così. Grazie. Ancora ragazzi giovani, ma dov'è l'abilità da parte del Bagnari Arsa a far vivere in maniera propositiva e attiva l'attività del touch a questi giovani che possono ancora esplorare il Rugby a 360 gradi? Diciamo che è sempre stata una vocazione, comunque quella del Bagnari, di poter dare le possibilità a tutti i ragazzi di provare le varie forme del Rugby. Partendo anche dal Seven abbiamo fatto attività anche di Rugby League, quindi di fuori della nostra federazione, e di Rugby a 5, portandoli sia sulla neve come Under 14 e anche di Rugby touch. La fortuna ha voluto che la nostra Under 18 ha concluso il campionato, quindi è libera dagli impegni e la 14 è in numero considerevole insieme al Gorizia, al Rep e al Ben Iulia Rugby Trieste, per cui ragazzi che sono liberi e non convocati li coinvolgiamo in attività come queste per fargli anche provare qualcosa di diverso e provare un divertimento che è sicuramente più leggero e alle volte più nel corde di alcuni elementi che per esempio con il Rugby a 15. Per cui accettano volentieri di fare questa attività, ma se hai una società che ti propone e che segue determinate sperimentazioni o comunque cose che sono alternative anche al Rugby 15, i ragazzi ben volentieri lo fanno. Bene, abbiamo detto questi elefanti toccati che hanno vinto la tappa di Gorizia, ma la classifica momentanea è condotta dagli arieti, lanciatissimi a 38 punti, l'intervista a Marino Costello. Passiamo alla seconda tappa della Coppa Alpe Adria, di Touch, qui ospiti dei cinghiali di Gorizia, abbiamo terminato una partita la vostra col Gorizia, combattutissima la seconda di ritorno, le tue impressioni della giornata? Le squadre crescono, il tempo si è sentito oggi, è più fresco, si corre meglio, la velocità aumenta, quindi è più bello, bello. Bene, quindi adesso ci rimane una sola tappa in quella di Bagnaria il 4 di maggio e insomma vedremo chi alla fine si porterà a casa la Coppa Alpe Adria e che andrà alla finale nazionale. Speriamo di essere noi, è ovvio. Bene, Sire è molto preparato, abbiamo visto delle belle cose fatte, quindi in bocca al lupo e ci vediamo il 4 di maggio. Grazie, viva il lupo, ci vediamo a Bagnaria. Bene Francesco, un'ampia pagina sul Touch, un ampio approfondimento, cosa ci dobbiamo attendere sabato 4 maggio nell'ultima tappa a Bagnaria-Alsana? Beh, io sicuramente mi attendo una sfida serrata da tutte e tre le partecipanti e come abbiamo già visto nella prima e nella seconda tappa adesso tutti gli ingranaggi sono leati per le squadre per cui c'è la voglia di andare a disputare questa finale nazionale da parte di tutte e tre le squadre per cui sono sicuro che l'asticella si alzerà ancora un po' e che vedremo un gran spettacolo. Bene, è tutto per questa puntata, grazie Francesco e alla prossima. Grazie a te. Ciao Giancarlo. Ciao. 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 Ciao.